Cerchi un ristorante o un locale per andare a cena? Devi festeggiare un evento particolare? Chiamo il call center di Radio Radio By Night Roma 800 039 036 per avere un trattamento privilegiato 800 039 036 Questo è il voice of your night Radio Radio By Night Roma 104 e 5 FM Let's begin Let's begin Altre esibizioni dalle Random Pub in diretta Radio Radio By Night Roma Paolo Roberto Allora siamo qui con i CSC Che sono in realtà CSC Per chi è italiano e non conosce le altre lingue Buonasera ragazzi Presentate, dite i vostri nomi d'arte Allora io sono sul continente E io di Gessi e Melodico Io sono sul continente e lui di Gessi e Melodico Oh dunque ragazzi Allora voi siete già stati ospiti di By Night Roma Sì sì Siamo conosciuti al Fairy Tales Dunque vogliamo sapere innanzitutto da quant'è che suonate Da cosa fate Raccontateci quello che siete voi stessi e tutto quanto Allora guarda Noi abbiamo iniziato nel 2008 Come un gruppo funky rap Tutta musica strumentale dal vivo Dopodiché invece così abbiamo cominciato Siamo passati alla musica latinoamericana Perché comunque ci piaceva di più E abbiamo cominciato a cantare tutti i pezzi in spagnolo Voi poi siete originari Cioè diciamolo per chi non vi vede Esatto esatto Le vostre origini quali sono? Siamo italo-cileni Italiani per parte di madre e cileni per parte di padre Ah vedi? Italo-cileni Siamo italiani di terza generazione Italiani di terza generazione Avete fatto album? Avete progetti? Sì Allora sì Questo è il nostro terzo disco Ne abbiamo fatto il primo che si chiama Real Talento Poi il secondo singolo A govallare il mondo intero E questo che abbiamo qui questa sera Che vogliamo presentare a Mazzona Che tra l'altro consegneremo a voi Grazie E questo qua è stato fatto in collaborazione con Sweet Gangsa e Lil Si Che ci seguono da macchina in questo momento Vorrei salutarli Salutiamoli Guarda se ti avvicini e parli più forte li saluti ancora meglio Allora vorremmo salutare i ragazzi che hanno collaborato con noi Sia a livello musicale che nella produzione del video Che sarebbero Allora Lil Si che è la voce femminile E Sweet Gangsa che è l'altra voce maschile che canta in inglese E i ragazzi che hanno collaborato nel video che sono Allora Irina Osipova Samy Hasaristua Martina Iacchetti Waco MC E dimentico qualcun altro? No no Ah è Mirko Amici Mirko Amici si E vorrei salutare anche un saluto a dei ragazzi A due persone che ci hanno fatto incontrare voi A Giove Blanco da Mirante Record e a Leoni Production Wow salutiamo tutto Sì sì Intanto qui dentro a Random Pub stiamo mandando infatti le immagini del vostro video Che possono trovare su Youtube immagino Sì sì Quella è la parte dell'intro del video Allora il video è ambientato Prima di tutto parte qui a Roma Sì Che noi siamo come dei mercenari che veniamo assoldati da una Qualche compagnia per andare una missione sperduta in Colombia Infatti poi il video si trasferisce una parte in Colombia Dove vediamo distratti da delle bellissime mazzoni Che comunque ci fanno fare tutt'altro che la nostra missione Uno vuole fare il video no? Per quel motivo là Eh ti pareva Se non lo fai quando fai il video musicale non lo fai a fare Ci potete raccontare come si sta evolvendo la musica latinoamericana? Beh la musica latinoamericana in questo momento sta prendendo uno spunto svalorditivo come si può dire C'è un picco proprio altissimo Si può vedere come si sta evolvendo partendo dalla musica che era molto strumentale Arrivando quasi mischiato con generi elettronici come Tecno, House Quindi possiamo capire che sta arrivando a livello molto commerciale E quindi si balla eh? Si si moltissimo Ma devo dire che poi loro sono molto scenici perché io li ho visti dal vivo Ti fanno venire voglia di ballare, ti coinvolgono, sono forti, sono veramente in gamba Si si l'altra volta ti ho visto lì quando ballavi E dove si può trovare? Non lo ricordo, non lo ricordo Dove si può trovare il vostro singolo? Allora il nostro singolo si può trovare uno in vendita su iTunes E' scritto CSC Amazona E sarebbe l'ultimo singolo che abbiamo fatto E se no si può trovare il video per vederlo con più calma su YouTube A CSC Amazona su YouTube E lì si può trovare il video E poi ci potete anche trovare su Facebook come Gabriel Digestia il Melodico e Surcontinente Perfetto, allora siamo pronti per ascoltare anche perché io sono molto curioso Ancora non ho avuto il piacere, è la mia prima sera Quindi ragazzi vi siete presentati da soli? No, adesso infatti si Ricordiamo, l'altra volta hanno cantato dal vivo Questa volta invece faremo ascoltare il loro brano L'album, la canzone anzi scusate Si chiama Amazona Amazona, sì Siamo pronti appunto per farla ascoltare Questi sono i CNC CSC È uno scioglilingua Amazona si chiede che ha quella gnocca? Amazona sulle amazoni Amazona Sulle donne, sulle belle gnocche È una scusa Ma come mai ti svegli sempre e poi... No, se poi voglio dire una cosa sulle amazze Allora le amazze mancava una tetta Lo sai perché... No, non è vero È verissimo Non è vero Ne parliamo dopo Ne parliamo dopo Siamo pronti I talenti dei By Night Roma Li lanciamo così Come i talenti di By Night Roma Loro sono i sì e sì E il pezzo è Amazona Ci siamo Ci piace, io già lo so Pura a me, pure a me Preparatevi, eh Che ci dovete venire a trovare dal vivo Mega concerto con By Night Roma In collaborazione con... Voglio vederli ballare, eh Calienta il fogo, muerbe il suo corpo Inicia il suo gioco Perché muove il pelo Calienta il fogo, muerbe il suo corpo Inicia il suo gioco Come il scenario in la jungla, la jungla Vi una mujer come zunga, come zunga No hai mara, ea, india, cucuca Salvaggio, pa' buonga, buonga Io la voglio a tomar, io la voglio a tocar Io la voglio a tomar, io la voglio a tocar Cuerpo Toma Tocar Eta la chica con ella, io la quiero pasar Io le dico, manahona Perchè mi entiendas la Amazona Una chica io per tutta su zona Ai, quando si è ora Salvaggio impura Conmigo passa chula Desnuda su hermosura Per a me, esto è locura Mueve il pelo Calienta il fogo Mueve il suo corpo Inicia su ruolo Porque mueve il pelo Calienta il fogo Mueve il suo corpo Inicia su ruolo Radio, radio By Night Roma 104.5